Slot machine modificate che comunicavano ad esempio solo parte delle vincite. Le hanno scoperte i militari della guardia di finanza con il personale dell'ufficio dei monopoli di Puglia, Basilicata e Molise che hanno passato al setaccio oltre 6.000 macchinette. 82 sono state sequestrate. Dentro c'era una scheda madre gemella o un dispositivo che faceva interferenza erodendo le vincite. Ai giocatori andava meno della percentuale minima, il 75% delle puntate e sottraendo introiti al fisco. In particolare le verifiche tecniche hanno dimostrato come le schede clonate registrassero puntate non comunicate all'erario mediamente superiori di oltre il 400% rispetto a quelle segnalate alla rete ufficiale. L'operazione Ale ha portato alla denuncia di nove persone tra proprietari dei congegni illegali e titolari degli esercizi commerciali per truffa ai danni dello Stato, froda informatica e alterazione delle comunicazioni telematiche. I sequestri e le denunce hanno riguardato i territori delle province di Bari e della BAT. L'operazione è anche servita a fare una mappa della situazione delle slot machine dalle nostre parti. Circa 6.000 apparecchi e 1.500 gestori controllati tra le due province. Un settore questo in costante evoluzione e pertanto merita un'attenta azione di controllo e monitoraggio. Gli interessi sono molteplici, anche gli interessi dello Stato perché no, però volti soprattutto a cercare di legalizzare un settore che è molto sensibile ad alterazioni del gioco, mi passi il termine, e danni alla stessa collettività.